Non c'hai manco i freni, vaffanculo, macchina de merda E la macchina de merda facciamo questo del suo giro Finiamo, grazie, vaffanculo Di slettamento di sto cazzo, vai, vai, vai Vai, porca Eva, vai Vai, mamma mia Mamma mia Che fatica Tua sorella, quella di una zoccola bastarda E bentornati e benvenuti su GoItalia Torniamo con la carriera Terzo episodio Andiamo a fare Eccolo qua, sfido libero Vai Eccolo qui Il anno, manufattura set out to build a car of the moment That defines who they are Cars that are nimble, well engineered With a futuristic design aesthetic Not exclusive automotive fantasies Desirable, attainable Each offering a welcome invitation for a motivated hard driving enthusiast To get in, buckle up And then define who they are at the absolute limit on the racetrack Grazie, garica Grazie, garica Grazie, garica Grazie, garica Grazie a tutti. 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 P1. Mettiamo tutto. Continuiamo. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. a tutti. e tutti. a 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 tutti. Questa è Vinta. Allì Grazie a tutti. 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 Thank you. Grazie a tutti. 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 ... 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 ...... ...... ... ...... ...... ...... ... ...... ...... ... ...... ...... ... ...... ...... ...... ...... ...... non ci siamo eh non ci siamo vuoi avviare? no? non c'è modo no non c'è credo non possiamo riavviare l'avvento che bastardi figli di mazzoppola no vabbè mission impossible adesso ma che cazzo mamma che cazotto porca miseria mamma mia mamma mia mamma mia mamma mia Grazie a tutti. 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 No, 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 no. No, 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 no. Yes, ti ho fatto vuoti come promesso. Qua riavassionata Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il messaggio è molto finito vediamo su pregole di Jack Daniels una vera miseria, vai vai una resistenza, come Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! È un capito bagno questa attenzione! Mamma mia! Mamma mia! Sono le fasi della gara più delicate! Mamma mia! 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 è Mugello, Mugello, al Mugello Grazie, ma faccio un pulo Siamo pronti? Con questo motore del cazzo, vai, sfondiamo il motore, vai, si sfonda Vai, sfondiamo sto motore, i mortacci vostri Vai, cazzo Vai Vai, vai, vai Vai che si sfonda tutto, vai che si sfonda tutto, vai che si sfonda tutto Dai, 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 porca putta, vai, vai che sfondiamo tutto Vai, 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 cazzo Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia Non ce la si fa, non ce la si fa Non ce la si fa, porca, non ce la si fa, non ce la si fa, non ce la si fa E portaci qua Mamma mia, mamma mia Un po' il codolo, porca, quello di leva, vai Tagliamo tutto, tagliamo tutto Vediamo questi tre pezzi Vai, vai Uno Uno Occhio 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 Tu Tu Occhio Ucchio Un po' di Occhio Oh, su dietro, su dietro, però faccio una dica andiamo nel segmento del primo il pilone è chiamato Bosch vediamo se ce la va vai vai cazzo scala 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 in seconda vai in seconda ICS vai vai anti slittamento di sto cazzo vai 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 porca Eva vai vai mamma mia mamma mia che fatica tua sorella quella di una zoccola bastarda va vai vai Gain, gain No pain No gain, vai Attenzione Mamma mia Mamma mia, mamma mia, mamma mia Non ho bisogno, non ho le palle Attenzione No, ce la faccio, non ce la faccio Ce la faccio Oh, le pion Mamma mia Una gara, non ho metodo Guarda, vedete, è pesantuccio, pesantuccio almeno quando è in turismo, però un po' peggio, quando è un po' peggio, cado, vai, comunque. Quando è rosso, è rosso, apri tutto, apri tutto, apri tutto, studi, studi, vai. Apri ancora, apri tutto, vai, più qua, tutta la traiettoria, macchia giusta questa vista, è un divertimento, un po' successo, è una tortura, vai. Quattro G i cinque. Con molta difficoltà, con molta difficoltà, nessuna penalità. Grazie. Grazie. La macchia semplicemente non ce la fa, la macchia semplicemente non ce la fa, spero di rottamarla prima possibile, perché veramente è una tortura, non lo so, che tipo, nazionale, mamma mia. Tortura tedesca sicuramente, attenzione. Un po' giro. Un po' giro. Un po' giro. Comunque so, evito le voci come la merda. Un po' giro. Oh mamma mia, difficoltà nell'insegnamento urbano, i freni, i cambi di direzione, mamma mia, stiamo arrivando a cantare questa, mamma mia, non mi vuol dire male. Guarda, 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 sta maledetta. Guarda, 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 guarda. Cosa è? Guarda le tecniche di questa porce, maledizione, posso meglio, una bicicletta? Porca miseria Mamma mia L'ultime curve però Anche ancora un altro Porca miseria L'ultime curve Arriva strano Ok ok Bella Un attimo Ho temuto che ci fosse un altro giro Siete successiva No Prego Ah ok Abbiamo finito anche speedo libero Mamma mia È stata È stato terribile È stato terribile Un sacco di errori Ma Una pessima scelta Non la prenderei assolutamente Quindi non fate come me Non prendete la Porsche E ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti No Grazie a tutti.